Qui è fantastico, forse dovremmo stare più vicini, però rischeremo di rovinare tutto. Ma quando ti ho visto esistiamo solo noi due, due quali che si danno la carica. Due è il numero perfetto. Due, non tre, due. Team Dueto, solo 90 lire al minuto per il numero che ami di più, anche con autori carica.